E' iniziato il conto alla rovescia per l'apertura del nuovo hub vaccinale di Pescara, come noto sorgerà nel palazzo Fuxas in via Inaudi. Si stanno portando avanti in questi giorni intanto i lavori di adeguamento della struttura che aprirà al massimo entro dieci giorni, come assicura il sindaco Carlo Masci. Noi abbiamo preso possesso di quello spazio, abbiamo verificato il numero di parcheggi nelle vicinanze, ci sono circa 300 posti auto, quindi sufficienti per accogliere tutti coloro che andranno a vaccinarsi in questo periodo. Stiamo smontando dei pannelli per creare degli ambienti molto ampi, il lavoro in corso prosegue alacremente, quindi nei prossimi giorni la struttura sarà a disposizione della ASL nei termini necessari per aprire il centro vaccinale. Il secondo centro vaccinale, anzi il terzo centro vaccinale, perché ne abbiamo anche uno per i bambini da 5 a 11 anni. In questo momento è possibile dare una data approssimativa per l'apertura? Io credo che la ASL si sia data una scadenza che è quella di non il prossimo lunedì, ma quello successivo, credo che sia il 24, quindi fra 10 giorni più o meno.